ok buongiorno buongiorno carlo buongiorno a tutti buongiorno siamo in un luogo incantato dove siamo se rifugio girasi girasi tutto in legno ma chissà si può aprire si può entrare le signorine sono adagiate sull'ingresso qua una volta la carne c'è anche la cosa c'è guarda la graticola un po' arruginita eh vabbè ma guarda il suo stemma un'aquila cos'è un'aquila bellissimo con due asce vedi vediamo un po' se si può entrare e vedi tu guarda tu che hai il telecomando fac ah addirittura vediamo vediamo ecco qua eh permesso adesso possiamo eh non ce ne è permesso permesso buongiorno là se apri la finestra forse mi entra un po' di luce vediamo vediamo ecco che qua ci sono ah perfetto siamo all'interno del rifugio girasi un armario la dispensa la dispensa una stufetta qualcuno giustamente lascio anche dei piatti di carta lasciato con delle bottiglie qua ci sono delle i viandanti guarda hanno lasciato dell'immaginetta dell'immaginetta ci sono tante scritte squadra beh non leggo guardate che tavolo bello con le panche soprattutto abbiamo anche la parte del del pavimento è tutto in legno una piccola scala e una stufetta mamma degli stivali là sotto c'è una finestra e là ah ok e questo qui è il rifugio così ecco qua c'è scritto anche qui c'è scritto Carlo guarda mi pare no sì girasi 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 perché c'è puntale girasi quassù c'è puntale girasi babana Carlo possiamo salutare salutiamo tutti il rifugio girasi lo danno come il rifugio abbandonato ma è carino nel suo genere c'è la parte posteriore che non l'abbiamo visto ricordiamoci di chiudere le finestre ecco qua questa era una parte ok non c'è niente qua d'accordo va bene ok da rifugio girasi è tutto è tutto ciao a tutti ciao ciao ciao